Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale a Bovalino, ci sono anche alcuni imprenditori, progettisti e dirigenti comunali tra i sette rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Locri il prossimo 30 aprile. Il GUP, giudice Amelia Monte Leonie, ha accolto le richieste depositate dal pubblico ministero Ezio Arcadi, che contesta ai sette indagati a vario titolo e con modalità diverse, il concorso in frode in pubbliche forniture, falsità ideologica, truffa e disastro colposo. Il giudice ha ammesso la costituzione di parte civile del comune di Bovalino. Altra contestazione mossa dalla pubblica accusa è quella relativa alla frode nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. In particolare, impiegando calcestruzzo avente caratteristiche di resistenza inferiori rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto e dagli elaborati di progetto, presentando il detto calcestruzzo in sede di verifica resistenza media pari a 19.03. Inoltre, la procura contesta il reato di truffa in concorso a vario titolo per alcuni. Se ne discuterà in giudizio il prossimo 30 aprile.